Beh, è un'estate che inizia la sua fase di declino fisiologico, la sua fase finale. Attenzione, l'estate non è che sta finendo assolutamente, fino all'equinozio d'autunno sarà estate, però certamente dopo ferragosto inizia quella fase di graduale declino, una fase calante, però è sempre estate, attenzione, perché questa premessa? Perché sta arrivando un peggioramento barico, circolatorio, di conseguenza atmosferico, che è tipico della parte finale dell'estate, però state tranquilli perché la stagione, la bella stagione ancora avrà da dire la sua. Il weekend, durante il corso del weekend arriverà una perturbazione atlantica, poi questa perturbazione tra domenica e lunedì si invorticherà e diventerà una vera e propria bassa pressione. Sabato avremo sostanziale stabilità atmosferica, o più variabilità al mattino in tutto l'Abruzzo, cielo anche poco nuvoloso, poi nelle ore pomeridiane formazione di nuvolosità a sviluppo verticale, soprattutto sulle zone interne e montuose, dove localmente, ecco non in maniera sparsa, però localmente potrà accendersi qualche rovescio, qualche equazzone o qualche breve temporale. Ancora più locale questa eventuale stabilità pomeridiana sui settori costieri, ma non la escludiamo del tutto. Ventilazione debole o moderata, mare calmo poco mosso e temperature con una prima, seppur flebile, diminuzione. Domenica più o meno sarà la stessa cosa, inizialmente la prima parte della giornata sarà al più variabile, e poi dal pomeriggio la tendenza è un graduale peggioramento. Dal pomeriggio si accenderà dell'instabilità qua e là sparsa sull'Abruzzo, arriveranno dei rovesci, dei temporali, poi questa instabilità anche ai limiti del tempo perturbato l'avremo soprattutto nella giornata dei lunedì. Ma domenica insomma inizierà questo peggioramento proprio durante il corso delle ore, soprattutto dalla seconda parte di giornata. Domenica ventilazione in rotazione da sud-ovest, proprio perché sta arrivando la perturbazione, rinforzerà questa ventilazione, il mare tenderà a divenire mosso e le temperature in ulteriore lieve diminuzione. Poi è sempre lunedì, lunedì diciamo è il protagonista, sarà il protagonista di questo peggioramento, invece lunedì avremo una diminuzione sensibile, generale, delle temperature in tutta la nostra regione.